signori luca pixar del 2021 film film animazione scusate animazione italiana fatto abbastanza bene anche se la prima parte sembra uno spot veramente un certo punto diceva ma cosa sta succedendo poi no la seconda parte migliorata quindi partiva come un 6 e finita come un 8 quindi 8 medio 7 ma facciamo anche 7.2 alcune cose mi sono piaciute lo trovate su disney in chiaro un saluto a tutti se volete iscriviti al canale e se volete lasciate un like ciao ciao